Dio diede a Gesù una rivelazione per mostrare ai Suoi servitori cose che dovevano avvenire. Nella rivelazione vediamo una pergamena, scritta all'interno e all'esterno, sigillata con sette sigilli. Quando ciascuno dei primi quattro sigilli viene aperto, vediamo un cavaliere. Cos'è la pergamena? Chi o cosa sono i cavalieri? Come discerneremo cosa o chi sono? Come sapremo di aver discernito correttamente? Molti altri hanno tentato di identificare la pergamena e i cavalieri. Questo libro non tenterà di confutare ogni singola identificazione effettuata, né di discutere tutte le possibili identificazioni. L'approccio è mostrare che l'evidenza si adatta a un singolo rotolo e un singolo gruppo di cavalieri. Se questo approccio ha esito positivo, escluderà efficacemente tutti gli altri pergamene e cavalieri. Questo libro non tenterà di discutere l'arco del primo cavaliere e il colore verde del quarto cavaliere, poiché ci sono troppo poche informazioni disponibili per discernerli. La pergamena verrà identificata per prima usando le prove relative alla pergamena. Quindi, ciascun cavaliere verrà identificato utilizzando le prove relative a ciascun cavaliere. Alla domanda sul discernimento corretto verrà data una risposta mostrando come. I cavalieri si incastrano I cavalieri corrispondono alla pergamena La pergamena e i cavalieri corrispondono al libro dell'Apocalisse e ci mostrano le cose a venire. Come discerneremo cosa o chi sono? Quale processo utilizziamo? Quale strada prendiamo? Ascolta ciò che dice lo Spirito. Gesù dice qualcosa a ciascuna delle sette assemblee che ci aiuta con una parte chiave delle risposte. Lo ripete sette volte per sottolineare quanto sia importante per noi farlo. Ascolta cosa dice lo Spirito. Apocalisse capitolo 2 versi 7, 11, 17 e 29 e capitolo 3 versi 6, 13 e 22. Quando ricordiamo che Gesù chiese al Padre di inviare lo Spirito per guidarci in tutta la verità e mostrarci le cose a venire, iniziamo a vedere quanto saggia sia la sua istruzione. Lo Spirito di verità ci guida in tutta la verità e ci mostra le cose a venire. Una parte fondamentale del processo per discernere la verità della pergamena e dei cavalieri è ascoltare ciò che dice lo Spirito. Come facciamo questo? Come ascoltiamo Dio? Dio ci parla attraverso sogni, visioni e pensieri che Egli porta alla nostra mente. Dio guida anche il nostro ragionamento e il nostro ricordo. Satana ci parla allo stesso modo. Questo è tutto aggiunto ai nostri pensieri, quelli che provengono dai nostri cuori, dal nostro ricordo e dal nostro ragionamento. Per ascoltare Dio, dobbiamo ascoltare i pensieri che porta e dobbiamo discernere che sono da Lui. Dio ci dice come fare questo. Un modo semplice è mettere alla prova lo Spirito, portando il pensiero, chiedendo allo Spirito di confessare che Gesù Cristo è venuto nella carne e che Gesù è Signore. Amati, non credete ad ogni Spirito, ma mettete alla prova gli Spiriti per vedere se provengono da Dio, poiché molti falsi profeti sono usciti nel mondo. Con questo conosci lo Spirito di Dio. Ogni Spirito che confessa che Gesù Cristo è venuto nella carne e viene da Dio, e ogni Spirito che non confessa Gesù non è da Dio. Primo Giovanni capitolo 4 versi 1 a 3 Nessuno può dire Gesù è il Signore, se non nello Spirito Santo. Prima Corinzi capitolo 12 verso 3 Oltre a chiedere allo Spirito di confessare, è importante chiedere allo Spirito di darci conferma della scrittura. Ciò che lo Spirito di Dio dice, deve essere d'accordo con la scrittura. Ci sono più cose che possiamo fare per discernere e ascoltare meglio, e per far sì, che Dio ci parli più frequentemente. Queste cose sono discusse nell'appendice A, ascoltare e discernere lo Spirito di Dio. Dobbiamo essere i Suoi servi. Lo scopo di Dio per la rivelazione è dimostrare ai Suoi servitori cose che devono avvenire. Se vogliamo vedere ciò che sta rivelando, allora dobbiamo essere i Suoi servi. Dobbiamo allineare le nostre vite e conformare i nostri esseri, i nostri desideri, credenze, pensieri, parole e azioni alla Sua volontà. Lo scopo di Dio è anche quello di Glorifica suo figlio, il Signore Gesù Farci conoscere Gesù Mostraci quanto Gesù ci ama Rivelarci le sue vie Lo scopo di Gesù è quello di Glorificare il Padre Farci conoscere il Padre Mostraci quanto il Padre ci ama Rivelare a noi le vie del Padre In modo che possiamo Cercare e seguire la guida dello Spirito Santo Credere e aiutare gli altri a credere Glorifica il Padre e suo figlio Gesù e aiuta gli altri a glorificarli Conoscere meglio il Padre e suo figlio Gesù e farli conoscere Vedere quanto il Padre e suo figlio Gesù ci amano e aiutare gli altri a vedere quanto il Padre e suo figlio Gesù li amano Preparati per le cose a venire e aiutare gli altri a prepararsi Apprendi le vie del Padre e diventa come Lui Dobbiamo fame e sete di verità Chiedi, cerca e segui Vi dico Chiedete e vi sarà dato Cerca e troverai Bussa e ti sarà aperto Per tutti coloro che chiedono riceve E chi cerca trova E a chi busserà Sarà aperto Luca capitolo 11, versi 9 e 10 Il libro di Proverbi è stato scritto per aiutarci a sentire e comprendere espressioni oscure Qualcuno che è già saggio sentirà e imparerà ancora di più Qualcuno che già capisce otterrà la capacità di consigliare bene Capirà proverbi, espressioni oscure, detti e indovinelli del saggio Proverbi capitolo 1, versi 5 e 6 Non dobbiamo fare affidamento sulla nostra comprensione Confidate in Dio con tutto il vostro cuore Non affidatevi alla vostra comprensione In tutti i tuoi modi, chiedigli e Lui guiderà il tuo cammino Proverbi capitolo 3, versi 5 e 6 Questo è particolarmente importante quando Dio ci mostra le cose a venire Dio ci mostra le cose a venire direttamente Dio mostra anche le cose che verranno mostrandoci le cose precedenti e poi guidandoci mentre li consideriamo per vedere cosa ne verrà Dicci quali erano le cose precedenti in modo da poterle considerare e conoscere il loro risultato finale O raccontaci le cose che verranno Isaia capitolo 41, verso 22 Ascolta per te Ecco un'opportunità per chiedere al Padre di inviare lo Spirito di verità per guidarti nella verità del rotolo e dei cavalieri Passa all'appendice a ascoltare e discernere lo Spirito di Dio e lavorare per ascoltarlo Lui Chiedi allo Spirito che cos'è la pergamena e chi sono i cavalieri Prenditi del tempo per chiedere, cercare e seguire la sua guida prima di leggere il resto del libro Se lo fai, il resto del libro ti aiuterà a vedere come lo Spirito di Dio ti guida